è una tradizione e anche un messaggio nuovo oramai da più di 60 anni questa mostra natalizia è un regalo fra virgolette la città la società ben accettato stiamo coniugando traduzione con anche innovazione come in banca quest'anno un motivo nuovo i colori la varietà che sono un po il simbolo di quello che il nostro emisfero quello che la nostra società la nostra vita quotidiana quindi essere aperti essere disponibili anche a diversificare come abbiamo fatto in banca se si pensa che i nostri ricavi oggi per quasi per il 40 per cento non derivano dal core business dal credito ma derivano da consulenze prodotti accessori nuovi servizi e quindi anche in banca viviamo questa molteplicità di situazioni e quindi anche in banca abbiamo capito che bisogna aprirsi speriamo che questo messaggio venga accettato che anche dall'alto adige di fuori al di fuori quest'anno abbiamo anche artisti internazionali si capisca che si vada verso verso situazioni nuove verso una cultura più internazionale però con la consapevolezza locale che qui si può e si deve fare cultura cultura anche nuova una società senza cultura non ha non ha futuro e quindi messaggio nuovo un'idea nuova speriamo ben accettata anche quest'anno questa mostra è un omaggio ai colori e in un senso metaforico anche un omaggio alla società piena di colori di cui abbiamo bisogno si base sul cerchio cromatico abbiamo quadri proprio in rosso in arancione in giallo in verde tutti colori proprio che alla fine in una sala separata si possono vedere delle artiste degli artisti che hanno usato nei loro quadri tutti i colori vorremmo presentare che la società ha bisogno di tutti i colori non di un colore solo sono ci sono quadri di altissimo livello direi dell'oreggio ma anche abbiamo dei tre o quattro posizioni internazionali la mostra è stata possibile solo perché per i prestatori collezionisti privati che ci hanno aiutato a far vedere questi quadri di altissimo livello e anche gallerie private c'è anche però la hofburg di bressanone che ci ha prestato un bellissimo quadro di costa grazie alla sparkasse abbiamo possiamo far vedere anche un'installazione di manfred maya un artista che si occupa proprio del colore è l'artista dell'alto adige che si occupa proprio veramente solo del colore ha fatto intervenzioni di colore anche fuori dell'alto adige e così lui ha fatto un'installazione per far vedere quanto i colori della natura ci servono anche